Inaugurata la sesta edizione di Agri Levante, la rassegna internazionale biennale dedicata alle macchine e alle tecnologie per l'agricoltura, organizzata dalla Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura, in programma dal 10 al 13 ottobre nell'area della Fiera di Levante di Bari. È un'edizione che parte molto bene, parte con un record di superficie, siamo oltre 60.000 metri utilizzati, più di 340 espositori, un quarantino di paesi come delegazioni straniere e ci aspettiamo un grosso successo in termini pubblico. Due anni fa siamo arrivati a 71.000 visitatori, quest'anno ci aspettiamo di superare gli 80.000. La novità di quest'anno è la parte zootecnica, cioè abbiamo più di 500 animali all'interno della nostra esposizione, grazie alla collaborazione con l'AIA, l'Associazione Italiana degli Elevatori, e la loro branchia regionale, l'ARA. Per cui li ringraziamo per il loro supporto e siamo sicuri che questo porterà molto più pubblico e molto più interesse verso la nostra, seppur molto valida, fiera. La fiera è cresciuta molto negli ultimi anni, la sesta edizione è crescita in tutti gli anni e si pone ormai come una fiera non solo nazionale ma internazionale. Una Kermess che si preannuncia da record con più di 350 industrie espositrici in rappresentanza di sei filiere produttive, cerealicola, energetica, no food, olivicola olearia, ortofrutticola, vitivinicola, enologica, zootecnica e delegazioni estere provenienti da 40 paesi che saranno impegnate in incontri business to business con le aziende espositrici. Importanti le novità a cominciare dall'introduzione di una sezione zootecnica con l'esposizione di 500 capi di bestiame e dall'inserimento di un'area dedicata alle macchine e tecnologie per il giardinaggio e la cura del verde, convegni, workshop ed incontri B2B caratterizzato da quattro giorni rivolte al bacino del Mediterraneo. Abbiamo già superato gli obiettivi di espositori in quantità e io sono convinto che supereremo l'obiettivo anche di visitatori. Credo tra l'altro che il beneficio sia dato dalla somma, dall'insieme della parte agricola come meccanizzazione a quella dell'allevamento. Come dicevo prima al collega dell'AIA, credo che la somma di questi due fattori dia un risultato molto maggiore di quello che può essere soltanto un calcolo matematico perché ovviamente una fiera come questa che vuole raccogliere tutti gli operatori italiani, del Mediterraneo e del mondo possa mettere insieme davvero tutti gli interessi, tutte le tecnologie, tutte le innovazioni che danno veramente lustro a una fiera.